4 milioni di euro evasi al fisco, due le aziende controllate dai finanzieri nel Valdarno a Retino e conseguentemente sequestrate case, terreni e contocorrenti. Nel primo caso tutto è partito da un intervento delle fiamme gialle in una ditta attiva nel settore degli imballaggi a San Giovanni Valdarno. Secondo quanto accertato dai finanzieri, l'amministratore dell'impresa avrebbe omesso di presentare le previste dichiarazioni fiscali per occultare al fisco oltre 2 milioni di euro. Ne ha seguito dunque il sequestro di edifici e polizze assicurative per 700 mila euro. La seconda attività è invece riguardata una cooperativa attiva nel settore delle pulizie e legale rappresentante secondo le indagini della finanza avrebbe utilizzato oltre 2 milioni di euro di fatture false per abbattere i ricavi. In questo caso sono stati sequestrati immobili, terreni e contocorrenti dell'amministratore per un milione e mezzo di euro.